Che succede, Ellie? Ho fatto un sogno meraviglioso. Era una bella giornata. E l'unica cosa a cui riuscivo a pensare era che desideravo... ...spaccarvi a metà e infilarmi nei vostri corpi... ...per essere un'unica famiglia felice. Cos'è questo, Danny? L'ho trovato. Calda. E strada. In back to you. Apri, tesorino. Tu non stai bene, mamma. Niente che un tuo abbraccio e un bacio non possano guarire. E che un'altra cosa? Tu non è. E che un'altra cosa? Non è. E che un'altra cosa? E che un'altra cosa? Mamma. Mammina è con i vermi ora. Mammina è con i vermi ora.